Rick, che cosa fai? Partiamo per un'epica avventura, Morty! Cosa? Il nuovo God of War, Morty! Kratos è un papà e il figlio è curioso proprio come te, Morty! Tu sei curioso! Perché ti sei rasato la testa? E perché facciamo tutto, Morty? Non lo so, per la paura! No, Morty! Per i soldi? Eh, sì, ma non stavolta! L'amore, la famiglia, non lo so! Eh, va bene, Morty, trova la tua motivazione! Dobbiamo far delle scelte e dobbiamo affrontarne le conseguenze! Ora andiamo nei nove regni! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ah, finalmente lascia delle vie a Tano e altri oggetti non ancora annunciati! Credevo riguardassero i due! Sì, come vuoi, Morty! Non potresti usare quella cosa su questi uccelli! E sporcarla di sangue! No! Morty, vieni qui! Ho appena trovato una barca, però dovrai remarla tu, perché io non ho voglia! Rick!